Il vaccino non avalente di tutte le patologie virali, all'inizio si è cominciato a produrre vaccini solamente contro le due tipologie prevalentemente implicati nel cancro della cervice, dal che poi si è cominciato a espandere anche a tutte le altre tipologie di virus che sono in qualche maniera implicati invece nelle infezioni, attualmente per essere importato anche in Italia, messo a disposizione il commercio anche in Italia, un vaccino non avalente che è un vaccino che chiaramente copre la maggior parte dei 16 o 20 tipi di virus che sono presenti nella specie umana.